ciao ragazzi 365 giorni con vale vedete questo qua questo non è niente di speciale però era uscito assieme a un altro paio di orecchini completamente diversi quindi però non è una cosa che mi aggrada tanto questo però come vedete anche se non mi aggrada non lo butto a meno l'orecchino no i cosmetici quando è quando diciamo becco il colore marrone o il nero quello sì soprattutto come i rossetti vero rossetto nero ancora un colore metto però quello marrone proprio no per niente ciao domani